presentiamo così la prima delle sei batterie del cento d'orto alla quattro Ilaria De Marchi, alla cinque Carolina Milani Bonaldi Lorenzo Menegaldo venticinque e novantaquattro su Filippo Furlan ventisei e trentatré cinquantacinque e trentuno miglior tempo di Cerri al momento siamo alla conclusione sempre Menegaldo alla quattro Furlan alla due ed è Filippo Furlan con cinquantasei e trentadue su Lorenzo Menegaldo cinquantasei e trentaquattro, Alessio Girardin cinquantasette e zero nove quindi completati tutti questi